Caltanissetta ha dato la disponibilità a ruote ferme e pedoni salvi. Dopo i comuni di Torino, Chieti, Arezzo, Pordenone, Udine, Oristano e Bologna, anche il capologo nisseno aderirà al progetto di sicurezza stradale ruote ferme e pedoni salvi, patrocinato dal Ministero della Giustizia e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, finalizzato a salvaguardare gli utenti deboli della strada, ossia pedoni, e responsabilizzare chi ha commesso un reato in violazione del Codice della Strada. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale è stata approvata all'unanimità la mozione presentata dal capogruppo della Lega, Oscar Aiello, con la quale il Consiglio ha impegnato il Sindaco e l'Aggiunta a firmare un protocollo di intesa tra l'Associazione Familiare e Vittime della Strada, il Corpo di Polizia Municipale Nisseno e l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Caltanissetta. Con questa adesione ha dichiarato il Consigliere Aiello che ha violato il Codice della Strada principalmente per guide stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, sarà preso in carico dall'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna e dopo un corso di formazione entrerà nel ruolo di assistente pedonale che adeguatamente formato dagli agenti di polizia presidierà gli attraversamenti pedonali davanti le scuole o in qualunque altro luogo di aggregazione sociale. Lo scopo è riparare i danni cagionati alle vittime dei reati e alla comunità attraverso azioni concrete e visibili alla cittadinanza, quali i lavori socialmente utili. Con la firma del protocollo d'intesa concluso, Caltanissetta sarà probabilmente la prima città della Sicilia ad aver aderito al progetto che incentiverà la sicurezza stradale e stimolerà il senso di responsabilità degli imputati indagati e condannati ai lavori di pubblica utilità.